Sei lì che disegni tranquillo e sereno, nessuno ti rompe i coglioni, poi devi fare l'altro occhio. E già alla prima, niente! Sì, giustamente cancelli e riprovi, ma in corturo lo sai che sei avvelenato. È come tirare un bicchiere d'acqua addosso a una diga. Quindi cosa fai? Cancelli! Ovviamente più cancelli più sporchi, e quindi anche oggi ci si rilassa domani.